Sono morto, con altri cento, sono morto, ero bambino, ho passato per il cammino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva del lento, del freddo, giorno d'inverno, e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. E' strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello. E poi siamo a milioni di polvere qui nel vento. E poi siamo a milioni di polvere qui nel vento. l'uomo uccidere che riuscirà come un'altra volta. E poi siamo a milioni di polvere qui nel vento. E poi siamo a milioni di polvere, ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà, l'uomo potrà imparare, a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo, quando sarà, l'uomo potrà imparare, a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Grazie!